Sto cutigno, raga, non è male, perché è forte. Il problema è che pecca molto di fisico. Nell'accelerazione, la velocità proprio, sul lungo proprio fa fatica. Overpriced as fuck, secondo me, è troppo sovrapprezzato. È comunque un 5-4, c'ha link carini, sì, quello sì. C'ha bait rates pure. Però la reattività, quell'81, si sente veramente tanto. Cioè, quando ti vai a girare, è proprio lento. Nei movimenti. Eh, la forza proprio si sente pure troppo. Non è come un Neymar, che comunque c'è il body, eppure che non è The Rock, comunque regge, capito? Eh, boh, non lo so, io non lo sblocco. Finalizzazione 82, che in realtà non si è sentita tanto, magari in quella partita. Però questa non è una carta che io pagherei. Sincero, l'ho provata. Non la pagherei comunque, questa carta.